Sai, d'accordissimo con te, un processo di crescita continuo, laddove magari all'inizio non avevamo un pressing così alto, nel tempo c'era comunque l'idea di migliorarci pian piano, c'era bisogno di un po' di tempo e sai, poi pian piano delle cose si vede. Ho detto comunque anche mercoledì Alvaro a Cristiano che era stata una giornata un po' così, oggi già si è vista una gioia diversa, ripeto, pressing continuo, quindi una riorganizzazione di gioco, laddove se si perde la palla si pressava, quindi continuamente, gran bella partita anche di Gigi, non so per esempio anche McKennie, questo che centrocampista classico incursore che poi insomma si butta negli spazi, pressa tremendamente, quindi tutti i giocatori bravi. Su Morata state dicendo tutto voi, un giocatore che è arrivato anche in doppia cifra, era la nostra prima scelta, c'era poi l'Atletico Madrid che non lo faceva partire, poi appena si è aperto un piccolo spirale, abbiamo cercato comunque di prenderlo, ci è andata bene, quindi è il collante per il nostro attacco, un terminale abbastanza importante per il gioco che vogliamo sviluppare, ecco.